Musica Questo che si vede alle mie spalle è il massiccio del Gen Argento Ma quanto è alto? È alto più di 1800 metri, poco più Musica E adesso vi portiamo a visitare le sorgenti di Su Gologone Musica Qui ci troviamo nella sorgente di Su Gologone Per arrivare qui serve una macchina o una canoa o con una barca Il nostro amico Giampiero ci spiega brevemente la storia di questo lago Adesso oggi guardate un invaso Ma se noi togliamo lo sbarramento, le barrage C'è un piccolo fiume Quindi però se torniamo indietro in migliaia di anni Questo c'era proprio un fiume grosso che entrava dal mare verso l'interno E adesso un breve giro dall'alto col nostro drone Musica 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 Grazie a tutti 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 Con queste immagini vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo reportage Grazie a tutti